C'è un rischio per il futuro dell'Europa, diciamocelo chiaramente. Ci sono molti modi con cui l'Europa può finire e non tornare alla prossima tornata elettorale, ma finire. Io penso che questo sia un tema estremamente serio. Uno di questi modi è di assistere passivamente alla manifestazione di minacce globali europee e pensare che la risposta sia tocchi a quello che è più vicino fisicamente e geograficamente là dove la minaccia si manifesta. Non possiamo fermarci a dove siamo arrivati con l'Unione Monetaria oggi. Dobbiamo completare l'Unione Bancaria e dobbiamo dare alla dimensione monetaria un sostegno di tipo fiscale, perché altrimenti gli aggiustamenti di fronte a uno shock che può colpire in ogni istante una parte o tutta l'Unione Monetaria gli aggiustamenti finirebbero per scaricarsi là dove sarebbe bene non si scaricassero in primo luogo, come ci insegna l'esperienza recente, sui mercati del lavoro. L'Italia non può sfuggire a questa implicita constatazione, cioè che l'Italia deve prendersi le sue responsabilità per evitare che l'opzione di fine dell'Europa si manifesti in modo concreto. Questo non può avvenire, non deve avvenire. L'Italia, ripeto, ha una grande responsabilità affinché non possa avvenire. Grazie.